ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce io sono rossella pani io sono una maestra di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce dell'arcangelo michele e mi trovo qui con diletta che ha partecipato al percorso di due mesi per imparare a connettersi con queste frequenze e lavorare con esse interagire con esse diciamo abbiamo fatto due mesi intensi siamo partiti da un livello elementare fino a un livello massimo di consapevolezza quindi diletta adesso ci racconta un po come è stata questa esperienza ciao diletta ciao rossella come è andata dimmi un po allora sicuramente molto è stato molto positivo e anche ho scoperto qualcosa su di me posso proprio dire qualcosa su di me perché ho sempre pensato di di avere un qualcosina mettiamolo così e hai portato con i tuoi insegnamenti alla luce qualcosa che era dormiente in me quindi mi ha fatto molto piacere ma soprattutto sono stata richiamata tantissimo da te proprio perché lavori con l'arcangelo michele perché io fin da piccola e non capisco cioè non so perché io sono religiosa credo in gesù nella madonna però quando mi si parla dell'arcangelo michele o degli angeli io cioè io spalanco il cuore gli occhi e ho un richiamo fortissimo che bello bene e quindi e quindi sì e quindi hai sentito l'esperienza hai avuto esperienza di sentire di percepire la presenza dell'arcangelo michele no no io proprio una protezione totale e oltretutto grazie soprattutto alle preghiere che mi è passato e soprattutto alla preghiera per portare facilitazione nella guarigione nelle persone devo essere sincera mi hai anche aiutato aiutato tantissimo perché ho avuto una protezione fortissima perché tu sai cos'è successo quando trattato una persona e quindi io proprio una cosa innata in me che qualsiasi cosa faccio io pregavo l'angioletto e tu invece mi è passato proprio una preghiera proprio uno scudo potentissimo grazie all'arcangelo michele e con il suo esercito quindi io mi sento protetta ho piena fiducia piena fiducia in questa preghiera perché proprio è il nostro scudo di luce assolutamente ascolta cara di letta che esperienze hai avuto tu nel trasmettere le frequenze nel riceverle tu avevi sempre delle esperienze molto particolari di un po se ce ne vuoi raccontare qualcuna certo allora nel ricevere comunque sempre sentito come qualcosa che mi arrivava proprio in maniera preponderante cioè proprio come onde che mi entravano con forza potenza e arrivavano anche colori io tanto con i colori subito appena facilitavano su di me una guarigione arrivavano i colori poi ovviamente sentivo che saliva dalla pianta dei piedi energia dalle mani a volte dalla schiena come praticamente si svegliasse la Kundalini e proprio pizzicori calore e quando terminava la facilitazione della guarigione poi dal caldo un freddo tremendo proprio cambi la temperatura certo però tu mi hai anche detto una volta che ti sei sentita molto radicata la terra infatti volevo dirti soprattutto quando anche tu mi hai fatto una guarigione mi hai facilitato una guarigione praticamente mi sentivo risucchiata dalla terra proprio radicata non riuscivo a muovermi ero cementata però sicura mi sentivo sicura molto serena ma non mi potevo muovere sentivo proprio una potenza che è una cosa molto particolare perché molto quando si lavora con le energie in generale se non c'è la protezione si può una persona si può sradicare invece questo lavoro è un lavoro che tende a anche se si hanno esperienze spirituali un po' trascendentali comunque assolutamente c'è la protezione c'è il radicamento e la cosa molto bella è perché io sono molto mentale anche e quindi posso anche viaggiare con i miei pensieri il qui e ora riuscivo a vivere bello sì che insomma non è facilissimo assolutamente come me e no no il qui e ora mi ha insegnato anche questo quindi tu puoi praticare l'autoguarigione anche durante la meditazione per entrare in quello spazio del presente che non è poco esatto ascolta una domanda scusa io ero convinta che tu fossi master reiki però hai fatto il terzo livello reiki giusto ok quindi sei già in un livello avanzato posso permettermi di chiederti che differenza c'è come come usi le due cose raccontaci un po perché è giusto sentirlo dire da una persona che conosce altre modalità di guarigione no allora io pratico comunque entrambe però devo essere sincera anche quando pratico il reiki non è più solo reiki proprio noto che ho un'integrazione totale con i tuoi insegnamenti e quelli dell'arcangelo michele perché innanzitutto io non mi tolgo assolutamente la preghiera a volte le mani noto che la tecnica del reiki sai anche tu che l'imposizione della mano deve essere ferma e io non riesco più star ferma ti piace essere libera ballano brava ballano ma e questo non lo dico io ma chi è sotto di beh che si affida a me che sentono una potenza diversa addirittura devo essere sincera da quando io ho iniziato il corso con te loro quando io le facilito anche con reiki la guarigione loro hanno delle immagini loro hanno delle immagini delle visioni e me le riportano o anche loro hanno delle sensazioni particolari delle esperienze diverse e però ho voluto anche con una ragazza fare sia uno che l'altro infatti con questa ragazza lina da ieri la sto trattando proprio solo solo con le alte frequenze con ciò che insomma mi hai insegnato tu e l'arcangelo michele e ieri è rimasta basita neanche ho finito il trattamento lei ha avuto la necessità di chiamarmi perché era sconvolta perché ha detto che a volte sembrava che sentisse i miei pensieri mi ha chiesto no mi ha descritto come io muovevo le mani su di lei cosa facevo e sono anch'io rimasta basita perché e oggi infatti per quello mi ha colpito la tua domanda sul radicamento oggi ho rifacilitato su lina la guarigione con le alte frequenze mi ha chiamato dicendo non è possibile la sensazione è totalmente diversa da quella che ho provato ieri oggi è come se qualcosa mi cementasse sul letto io non riuscivo a muovermi avevo una pesantezza tremenda vedevo delle immagini però di letta e di persone e ha detto che per 20 minuti non riusciva a muoversi certo quelle esperienze sono diverse e variano anche questo è tanti facili tanti facili l'ultima si infatti gli ha chiamati e come se gli arrivasse ha detto anche ieri luce codificata mi ha colpito questa parola infatti questa è luce informazione e io volevo dirtelo perché la ragazza non può saperlo certo non può saperlo non può sapere mi è arrivata come della luce codificata mi stava parlando perché sono informazioni io sono entusiasta che tu sei entusiasta e sei rimasta contenta di questo di questo lavoro adesso tu lo faciliti aiuti le persone questa è una cosa meravigliosa eh ascolta tu a chi consiglieresti di fare questo percorso dimmi tu allora beh a chiunque perché chiunque ha dei doni eh che non conoscono o che sono nascosti o dormienti dentro di noi è importante trovare la persona giusta come io ho avuto la fortuna di incontrare te perché bisogna anche il dire che tanti si donano a questo mondo ma ecco hai capito non voglio non voglio giudicare nessuno cioè io ho avuto la fortuna di incontrare una persona umile pura di cuore come te e quindi a chiunque chiunque lo può fare chiunque non chi soffre anche chi è felice anzi è una nota in più posso fargli una domanda eh tu hai fatto fai il reiki e hai fatto tanti livelli cioè sono tre livelli poi se poi c'è anche il master quella per un'altra cosa però tu per raggiungere la completezza la formazione la lavorigione hai fatto tre livelli tu con me hai fatto nove settimane di percorso giusto ok quindi abbiamo fatto un percorso dalle elementari come ho detto prima fino a raggiungere il massimo livello cosa ne pensi di questo percorso che abbiamo fatto no allora è stato bellissimo la cosa bella è il gruppo e l'armonia e l'umiltà del gruppo e però la cosa bella che tu già dal primo giorno ci hai donato la facilitazione a guarigione mi ha colpito che da subito tu ci hai fatto praticare assolutamente eh subito io con le altre pratiche no diciamo che ti devi arrangiare ok tu invece c'hai da subito fatto esercitare anzi poche chiacchiere e tanto lavoro e questo abbiamo lavorato tantissimo eh no sì perché è vero sono importantissime le dispense con una come me ha bisogno anche della tecnica e tutto ma se non c'è la riprova sul campo certo cosa te ne fai delle dispense niente adesso ti faccio una domanda l'ultima domanda e poi ti lascio andare cosa ne pensi dell'investimento che hai fatto per questo percorso se lo vale no vale valgono tutti non mi sono mai pentita un secondo anche quando io tra virgolette non ti conoscevo ti ho contattato e ho detto sì no mai mai no no mai pensato un secondo che è stato un soldi buttati ecco detto più chiaro sono contenta sono contenta che sei contenta quando una persona è felice e soddisfatta eh poi si legge nei tuoi occhi l'entusiasmo di quello che hai ricevuto come di tutte le persone che hanno partecipato dell'ultimo gruppo eh eravamo veramente un gruppo compatto eh non vedevamo l'ora di incontrarci assolutamente assolutamente non volevamo lasciarci alla fine della sessione quindi è stata un'esperienza bellissima anche per me veramente poi io mi sono emozionata più di me nessuno può comunque cara Diletta le persone che ti stanno seguendo qua chissà magari ti incontreranno nei seminari dal vivo perché a me farebbe piacere che tu lavorassi che tu lavorassi con me che mi vedi e questa è una cosa bellissima perché hai fiducia in me e questo mi riempie di gioia io io ringrazio e io ringrazio te Diletta prima di salutarci eh volevo chiederti hai alcune testimonianze di esperienze di guarigioni che hai fatto su persone o animali raccontaci un po' certo allora la prima guarigione in assoluto eh l'ho facilitata su un gattino meraviglioso di nome Luna e praticamente la sua padroncina mi ha detto che eh stava per morire aveva pochi giorni perché le avevano diagnosticato un tumore io gli ho chiesto se potevo praticare la guarigione al gatto lei mi ha detto sì sì tanto io invece mi sono messa per due giorni a a facilitare la guarigione anche del gatto perché per me sono anime meravigliose e magicamente dopo qualche giorno si è scoperto che la diagnosi che gli avevano dato al gatto cioè pochi giorni di vita e che aveva un tumore non era così ma era un'infezione molto grossa adesso il gatto dopo un mese e qualcosa sta benissimo poi un'altra praticamente una ragazza chiedeva aiuto su Facebook perché c'era la madre non si capiva cosa avesse stava malissimo e io le la contattai e le dissi guarda io non posso mandarti solo luce tu stai parlando della mamma se mi permetti di mandarti una facilitazione con le alte frequenze io sono disponibile tu basta che mi dai o nome e cognome della mamma ho una foto bravo questa ragazza immediatamente mi ha mandato la foto io la sera mi sono messa a facilitare la guarigione la ragazza mi disse che aveva febbre altissima quasi 41 non si teneva in piedi il giorno dopo mi contattò mi ringraziò dicendo che la madre aveva scoperto che aveva il covid ma non rappresentava più nessun sintomo quindi adesso voglio dire stai acquisendo più fiducia in questo lavoro ovviamente avendo dei riscontri anche se nulla ci riporta la gente la guarigione per il nostro massimo bene arriva lo stesso come lo stesso certo però io ho avuto la fortuna di avere anche delle guarigioni fisiche di avere proprio riscontri e questo ovviamente siamo umani fa piacere a piacere certo piacere perché così so che la strada giusta e io continuo continui che è bello sono felicissima grazie per la tua testimonianza di letta veramente io credo che potrà essere utile per tutte le persone che ci stanno ascoltando bene io allora ti saluto saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando ci vediamo al prossimo percorso di coaching di due mesi o nei seminari dal vivo un salutone a tutti ciao 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 di letta grazie grazie